I nostri migliori saluti e bentrovati all'appuntamento con il meteo. Per venerdì 11 novembre si afferma un flusso di venti più freddi, in prevalenza nord-orientali, con tempo instabile principalmente al sud. Rovescio temporali sui settori ionici e locali deboli piogge sul medio Adriatico e al nord in forma isolata. Temperature in calo. Al nord venti orientali in rinforzo, specie lungo l'Adriatico, ma con tempo comunque stabile, come sulle Alpi e in Liguria. Nubi basse o nebbie sulla Valpadana e possibili deboli piogge in prossimità delle zone pedemontane. Temperature in generale flessione. Al centro venti in rinforzo da nord-est lungo le regioni Adriatiche, dove si attendono annuvolamenti a tratti anche compatti. Possibili piovaschi sparsi e brevi rovesci tra Abruzzo e Molise. Sull'Umbria, regioni tirreniche e in Sardegna, bel tempo solleggiato con clima un po' più umite. Farà più freddo invece sulle regioni Adriatiche e in Appennino. Al sud ritroveremo il tempo peggiore, con una linea di instabilità estesa tra il Salento, la Calabria Ionica e la Sicilia orientale. Su questi settori si avrà il maggior rischio di pioggia o temporali. Altrove spazi di sereno, anche ampi, con qualche addensamento e locali piovaschi. Venti nord-orientali più freschi.